E' una vita che giuro che non faccio la fine di mia madre ed eccomi qua, ha 18 anni incinta come lei e sono pure stronza, come lei. La verità è che ho paura, paura della pancia, paura del parto e soprattutto paura che poi nessuno mi vuole più. Non devi essere una brava ragazza. Ma certo che lo sono. Io sono una ragazza molto dolce, gentile, sensibile, scrivo anche poesie. Ah, scrivi anche poesie? Sì, d'amore. Che facciamo? Lo prendiamo questo caffè? Comunque ha fatto bene, ha fatto, eh? A fare che... A rapinare la banca, se lo meritano. Bocca al lupo. Bocca al lupo, bacca al lupo. Senta, e l'apprassi? Mi dispiace, ma la bambina non risulta iscritta. Non posso farci niente. La vede la bambina? Sta qui, le risulta questo. Qui si usa così. I poliziotti hanno poco lavoro e... E ci diamo una mano. Certo che la polizia non fa niente, eh? Rispettate il divieto d'accesso, grazie. Siete dei pagliacci. Quindi voi venete due volte? No, facciamo due volte. Con il primitivo si fa due volte. Dai, che il meccanico mo' chiude, eh? Però mi piacerebbe, non so, avere un ricordo di questa giornata. E voi volete che io rinunzi a tutto questo? No, facciamo due volte.